eccoci qui ancora una volta in giro come piace a noi siamo venuti ai mercatini di bolzano merano e vipiteno per poi fare una capatina allo store di saleva e per fare anche una scalata nel saleva cube solo che di mercatini abbiamo visto ben poco perché c'era così tanta gente in giro che abbiamo deciso di lasciar perdere devo essere sincero ci abbiamo provato ci abbiamo provato ma non siamo tipi da da ressa da posti dove c'è tanta gente purtroppo erika come sapete si è fatta male su un tendine non può scalare finché non si rimette questo mi dispiace molto anche stavolta mi ha fatto sicura e non ha potuto scalare peccato davvero mi dispiace un casino perché venire quassù vale veramente la pena la palestra è fantastica ma torneremo torneremo ciao sono andrea un alpinista escursionista e fotografo di avventura appassionato di tutto ciò che è odio montagna e avventura da qui nasce adventure photography venite con me che ci divertiamo a 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 oggi abbiamo un amico in più visto che non andavamo a fare niente di particolare andavamo ai mercatini è una giornata in palestra abbiamo portato anche otto eccolo qui otto otto saluta a 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 ed eccoci qui dentro il saleva bivac il bar della saleva e ho dovuto togliere l'audio perché purtroppo c'era una musica di sottofondo e sicuramente youtube me l'avrebbe bloccata perciò una parete qui con la gigantografia del del mascabroni il bivacco dove prima o poi dovremmo andare anche noi sulle dolomiti con tre corde appartenute a tre alpinisti uno dei quali Messner anche qui stesso discorso ho dovuto togliere l'audio perché c'era una musica di sottofondo ne metterò una io questo posto è fantastico da quando erano hanno rinnovato il negozio qui all'ingresso ci sono questi mega schermi con proiettate le immagini delle dolomiti di scalatori imprese alpinistiche veramente da rimanere a bocca aperta veramente da rimanere a bocca aperta e mi sono caricato così tanto vedendole che sono partito subito in quarta in palestra carichissimo per entrare in palestra si può passare sia da dentro il negozio che da fuori indovinate un po' da dove siamo passati noi è troppo bello per non essere visto siamo stati alla questa leva abbiamo speso un secchio di soldi anche tu e adesso torniamo al corzaro non abbiamo scalato in palestra perché c'era troppa gente riproviamo stasera o domattina bene l'abbiamo l'abbiamo qui 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 , qui 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 Grazie. 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 Ah Oh Blocca Ah Ragazzi è andata Uh Gara Yes Blocca Alli Attentare Alli Second c'era questo, l'avevo visto il nostro corso gratuito 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 gratuito